Esordio in campionato positivo per lo Sporting Ponte Cagnano, che sabato ha battuto per due reti a zero il Giffoni 6 Casali fra le mura Amiche. Una partita difficile, giocata su buoni ritmi e sbloccata dai padroni di casa al 26esimo del primo tempo con Garofalo, abile a sfruttare un errore difensivo degli avversari. Dopo la traversa colpita dal Giffoni 6 Casali, al 41esimo del primo tempo è arrivato il gol del raddoppio con Genovese, che ha sfruttato una respinta corta della difesa giffonese, infilando il portiere da pochi passi. Una vittoria importante per il giallo-blu, che cominciano con il piede giusto il loro primo campionato di promozione.